Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di IfmanCodeLim47 E' la quinta volta che vi faccio questo maldetto video perchè sono stato sempre interrotto in un momento in meno opportuno Adesso giochiamo finalmente, per l'ennesima volta sperando in questo video nessuno mi disturbi o ne ha o altro dobbiamo fare l'imboscata al ristorante 1Q che stiamo dai tempi di pappagone a fare questa missione la tua memora, o chi la potete fare poi il numero è perso dobbiamo stare, vediamo un po' questa missione ok, andiamo si oh, oh, armi andiamo andiamo, andiamo, andiamo mamma mia l'auto già arriva e non è sì troppo Quattro! questo se potrebbe sentire qui ok questo è fatta dovrebbe essere... non devi rifarle ma per questo non dovrebbe essere di più ma perchè mi voglio sempre? questo è quanto? questo è quanto? questo è quanto? ho guardato un po' grazie a tutti oh 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 Allora... Dai, non basta, non basta... OLLEE! Tutti morti... Ok, andiamo. Io non basta che se no non... ...dia non basta che se no non... Grande! Grazie, grazie, grazie! Ok... Che spese? Adesso dobbiamo fare... Ah il mazzato è change out Change out Change out Allora dobbiamo posare Non scherzo Vai flash Mai bot Vai Ci sono molti impianti Guarda Prendiamo la... Guarda Artbull Guarda 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 Attivo come un gatto Guarda 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 è che è buca già ci ha ucciso 3 minuti per ogni volta pzzammm io lo faccio li ho prendito dopo Noi, non so. Noi, non so. Noi, non so. Ok, ok, ok. Ehm, molto luce. Ah no. The shoe must go on. The shoe must go on. Ok... Eccoli qua! Lascia che ti prenda le tue armi! Quentinale, io ne sei tutto pancato. Può uscire le mie gatti! Oh, ah... Eccolo. Forza lì. Chiuditi! Buongiorno svi, cosa posso fare per lei? Dove le ha passato il bagno. Spero di sparte nell'angolo, vai. Per il lasciare. Prendiamoci con il bastardo Dunque lei l'ha presentata in Nihon Ed è perfino occidentale in solito Mio padre Ah ecco Eh sì sì Quando arriva il circuito Uzi Uffa bella Uzi Sì che è successo Non sono niente i giochi Oh cosa Lascialo Scusate come che mi convene Vabbè Ciao Scappiamo la macchina Eh vabbè Non mi spero che non è stabile Vabbè Dì che fa Missione compiuta Missione compiuta Ok Successo E qui finisce il nostro video Ricordate mi piace Iscrivetevi e condividete Ciao 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 Ciao